Intel fa un passo indietro, Arrow Lake verrà migliorata, AMD potrebbe regalarci altri processori su M5 ed Nvidia dice che devi giocare meno di 100 ore al mese. Queste e altre notizie nel nuovo episodio di Morden News. Oh, siamo tornati ragazzi, finalmente un MTN dopo queste settimane di lanci costanti, avevo faticato un pochettino a riuscire a trovare uno slot per farlo, ma oggi ci siamo e ci sono una marea di notizie dedicata a Intel, AMD e Nvidia, quindi vediamo di iniziare subito. Prima però vi ricordo che questi video sono sponsorizzati dal nostro configuratore, con intelligenza artificiale. Il modo più semplice per ottenere una build in pochissimi secondi, è talmente semplice che vi basta inserire il budget e l'utilizzo che volete farne, oppure potete anche personalizzarlo in termini di forma, colore e preferenze su brand di GPU e CPU. Al resto ci pensa lui dandovi sempre le configurazioni con i prezzi più aggiornati possibili, al secondo in cui fate la vostra build. Link in descrizione. Qualcuno ha deciso che fosse una buona idea mettere un i9 14900K assieme a 4090M all'interno di un mini PC. Non mini come questo mini M4 che vi recensirò a breve, ma è effettivamente comunque molto molto piccolo. È interessante da vedere questo, non vedo l'ora di provarlo. Stiamo parlando del codice fiscale FEVMFN60G, che è assolutamente un nome commerciabilissimo, facile, intuitivo e ricordabile. Ad ogni modo stiamo parlando di un mini PC che ricorda molto da vicino, come potete vedere, appunto le forme di un mini. Però nella versione studio, che è un pochettino più grande, come potete vedere, praticamente il doppio in altezza di questo. Tutte quante le feature esterne appunto lo richiamano, come potete vedere, ad esclusione di questa ventolona che rimane nella parte superiore. Qual è il suo utilizzo? Qui abbiamo uno spaccato dell'interno. Come potete vedere sfrutta un Thermalright fatto ad hoc per il brand FEVMFN, che oggettivamente dovrebbe essere forte nell'ambito degli OEM in Cina, se non sbaglio. E qui abbiamo alcune immagini da una recensione. Come potete vedere, strutturalmente alla fine almeno le componenti non sono saldate, la parte del Wi-Fi è aggiornabile, la ventola è sostituibile, l'SSD è scambiabile e c'è anche un secondo slot, cosa molto interessante, e poi abbiamo la RAM Sodium in doppio banco. Quello che invece rimane non sostituibile sono processore GPU, come vi dicevo prima, un i9 e una 4090M. Sarei curioso di sapere un po' le temperature, perché mi spaventano. Oltretutto, una cosa che non capisco è che questa deve essere la parte di sotto, quindi ha una seconda ventola che estrae da qui e invece questa parte qui che è quella che tira dal radiatore. Interessante. Sempre parlando di processori, passiamo ad AMD, che in questo momento sta dando del filo a torcere a Intel, ma neanche così tanto. Nel senso che nel Q3 del 2024 le sue vendite sono salite al 28.7%. Non è poco, perché come potete vedere soltanto nel 2016 avevano un terzo di questo valore e c'è stato un incremento notevole tra appunto il Q2 del 2024 e il Q3 del 2024, ma Intel mantiene comunque la leadership totale con oltre il 70% in quelle che sono le sue condizioni peggiori di sempre, che è veramente assurdo. Però comunque far passare uno dei brand che ha portato l'informatica all'interno delle Fortune 500 con IBM dal 90 al 71%, insomma è un risultato che si può considerare notevole da un'azienda che nel 2020 avrebbe dovuto dichiarare bancarotta. Parlando di vendite, il 9800X3D è letteralmente scomparso dal mercato. Appena uscito lo avete comprato in massa, se ci siete riusciti fatemelo sapere con un commento, se siete in possesso di un 9800X3D preso da Next o da Amazon quando sono usciti, fatemelo sapere. Qui su Amazon US possiamo vedere degli scalper che provano a rivendere il prodotto a 700 euro e passa, che è veramente veramente assurdo, cioè siete degli animali schifosi. Spero vi rimangano tutti sul groppone. Onestamente se trovate un 7800X3D potete valutare tranquillamente l'acquisto, per il gaming attuale a meno che proprio non passiate a una 5090 e 1440p o una 5080 e siate sulla fascia media in questo momento, insomma probabilmente le differenze non vi risulteranno così entusiastiche da dire che il 9800X3D fosse imperdibile. Già il 7800X3D ha delle prestazioni veramente invidiabili, soprattutto se parliamo di una gestione di sistema che è rasenti di 144 fps per esempio, dove i processori iniziano ad assomigliarsi un po' tutti. Per quanto riguarda Arrow Lake, Intel ammette il proprio errore e dice che è stata una grande lezione di umiltà quella avvenuta con Arrow Lake, dove i propri processori sono risultati sottoperformanti. Il brand è al lavoro per introdurre un microcodice che pareggi le prestazioni promesse, perché ci tengo a dire, alcuni di voi nella recensione del 9800X3D mi hanno sottolineato come abbiano già rilasciato un microcodice sulle Z890 che permette ai processori di performare meglio, ma quanto meglio? Molto poco. In realtà ragazzi ancora non siamo a livello promesso e per quanto questi processori comunque abbiano dei consumi notevolmente inferiori rispetto alle generazioni precedenti, io se compro un prodotto che oltretutto mi costringe oggettivamente a prendere una piattaforma Z890 ben costosa e di cui non si sa quale sarà il tenore di vita, cioè potrebbe morire col prossimo refresh, oggettivamente parlando mi aspetterei di avere le performance che mi sono state quanto meno promesse. Ovvero 260 fps in Assassin's Creed Mirage, che onestamente è un valore che io manco col 7950X3D sono stato in grado di ottenere nella mia recensione del 9950X, ma per qualche motivo a loro appunto risulta. Va bene. Ad ogni modo vedremo se il 285K sarà in grado di scollarsi dalla prestazione del 9900X e del Ryzen 7 9700X, che poi non è che comunque si salga più di tanto, però quel 12% del 7800X3D allocabile su una BI650 è decisamente umiliante nel contesto del gaming. Poi vabbè, qui stiamo parlando del 720p, ma se prendete le prestazioni 1080 la software è uguale. Sempre parlando di processori, passiamo invece di nuovo ad AMD, che con Zen 6 potrebbe fare un grosso, grosso regalo ai gamer, ovvero quando si è iniziato a parlare di AM5 effettivamente non era chiaro quale sarebbe stata la generazione conclusiva e la cosa che però ci interessava sapere è come sarebbe stato il canto del cigno di questa generazione di socket, ovvero sappiamo che Intel tende a fare una situazione in climax discendente, ovvero si inizia a bomba con una generazione che è solitamente la più performante e poi ci sono dei refresh che li accompagnano che sì, magari migliorano qualcosina, anche fino al 10%, però di per sé rimangono abbastanza uguali a quelle precedenti, senza essere delle rivoluzioni che facciano dire ok, per fortuna ho preso questo socket. Nel caso di AMD invece la situazione è sempre stata un po' diversa, ovvero che si inizia in maniera un po' tiepida con appunto dei prodotti che di per sé sì, magari sono competitivi, ma che più che altro prendono valore nel momento in cui calano di prezzo nel tempo e la piattaforma si dimostra competitiva nella sua longevità, come per esempio appunto la prima generazione di M4 che da Ryzen 1000 a Ryzen 5000 ha fatto dei passi avanti da campione, con il 5800X3D che ha causato il più grande culmine, penso, nella storia del gaming moderno, grazie alle prestazioni della 3DV Cache di prima generazione. Stessa cosa con M5, abbiamo iniziato con dei 7000 che oggettivamente presi nel complesso non è che fossero poi così eccellenti, sono stati ravvivati dai 7000X3D con la 3DV Cache di prima generazione per poi avere dei 9000 che alla fine non è che abbiano reso felici molte persone come prestazioni generali. Certo qualcosina in produttività in più lo danno, di nuovo gli X3D vengono a portare le vere prestazioni per quanto concerne il gaming con un 9% medio nell'ambito del 1080p utilizzando però una 4090. Comunque per questa discussione ho dedicato un video, se volete andare a recuperarlo vi spiego esattamente perché i dati si estraigano in quella maniera, cosa siano i target vari e blablabla. Quello che però ad oggi non è chiaro è se AMD effettivamente ci darà la generazione Zen 6 su M5. Ora, Kepler che è solitamente uno dei leaker di AMD più corretti in assoluto nel senso che azzecca il più alto numero di previsioni e quindi questa cosa lo rende abbastanza affidabile, probabilmente a contatti all'interno dell'industria, non è che sia Nostradamus. Dice che Zen 6 ce lo dovremmo aspettare per la fine del 2026, inizio del 2027. Onestamente ha senso. E sotto gli chiedono però il 6 novembre stesso socket? Sì. E questo è molto interessante perché vorrebbe dire che Ryzen 10.000 con cambi architetturali, processo produttivo e tutto quanto non arriverebbe con appunto un nuovo socket, cioè M6. E vi spiego perché secondo me questa cosa ha molto senso, cioè che esista questa possibilità. Uno, Zen 6 andrà a contestare il predominio di Novalake. Novalake sarebbe la generazione successiva ad Arrolick ed eventuale Arrolick refresh che si andrebbe ad allocare su una nuova piattaforma, perché si parlerebbe del primo processo produttivo A18 di Intel e io dubito ampiamente che le Z890 verranno sfruttate anche per quello. Secondo me questo chipset nasce e muore con Arrolick ed il suo eventuale refresh. Mantenere la stessa piattaforma sarebbe sicuramente un vantaggio veramente importante per AMD. Poi c'è da dire un'altra cosa. Per quanto Zen 6 sarebbe di sicuro interessante da posizionare nella situazione delle DDR6, anche per una questione di nominativi, poi ci metti le PCI-6, AM6, insomma grande guerra dei 6 a livello di marketing sarebbe eccezionale, nel 2026 lo lanci il 6-6, devastante, cioè marketing incredibile, no? Si scrive da solo, sarebbe una roba pazzesca. Oggettivamente quello che mi viene da pensare è che le DDR6 ancora sono un po' da vedere, cioè nel senso le DDR6 potrebbero rappresentare il più grande scisma nell'ambito del PC gaming da anni, ovvero non essere più i classici stick che conosciamo e che abbiamo visto in tantissimi anni dalle DDR1 ad oggi, ma essere CAM2, ovvero il nuovo formato con il famoso triangolone che andrebbe a risolvere tanti dei problemi che affliggono in questo momento le DDR5, come banalmente il fatto che tanti di voi mi segnalino sempre che se mettono quattro banchi di RAM DDR5 difficilmente riescono ad utilizzare l'XMP anche a frequenza abbastanza bassa e come 6000 MHz banalmente. CAM2 risolverebbe tutti questi problemi. E secondo me questa qui è anche un po' una strategia per ritardare un pochettino quel lancio, per essere sicuri di avere tutto quanto al 100% pronto per l'arrivo delle DDR6, appunto se ho informato CAM2. Sarei abbastanza curioso di saperlo. Diciamo al tempo stesso che Zen6 io un pochettino però la do per scontata su AM5, perché effettivamente se la piattaforma avrà supporto fino al 2027 io mi aspetto che AMD, un po' come visto con AM4, continuerà a sfornare processori e poi non lo so uscirà il 9700X3D, cioè io mi aspetto cose del genere. Mi aspetto una generazione XT, mi aspetto dei modelli unici per il mercato cinese, nel senso mi aspetto che fino al 2027 appunto ci sia qualcosa. Aspettare due anni per un nuovo processore potrebbe aver senso, perché se cambia radicalmente l'architettura, processo produttivo e cose del genere, dando spazio poi magari ad una versione X3D di un possibile Ryzen 10.000, vorrebbe dire avere un incremento prestazionale che oggettivamente però giustifichi il socket, perché alla fine i 5000 erano talmente aggressivi che i 7000 un pochettino si sono ritrovati in una situazione bassa prestazionalmente, quindi di per sé sono anche un pochettino necessari per garantire quel livello di qualità ed estensione che AMD con AM5 voleva rappresentare, un po' come visto con AM4, cioè se fossi passato da Ryzen 1000 a Ryzen 5000 avrei avuto un upgrade sulla stessa piattaforma veramente consistente. Se in questo momento passo da Ryzen 7000 a Ryzen 9000 non ho granché, quindi di per sé un'altra generazione è assolutamente importante per dare appunto massimo rilevo e risparmio ai propri consumatori e soprattutto creare anche un po' meno RAE in giro, perché basta cambiare scheda madre ogni due anni, vero Intel? Ok, basta con AMD, chiudiamo con Nvidia, che vuole che giochiate solo 100 ore al mese, no? Che cosa intendiamo? Ci sono stati degli aggiornamenti su GeForce Now, il servizio di streaming per quanto riguarda Nvidia e praticamente hanno cambiato due cose. Come potete vedere abbiamo nuovamente 3 tier, Free e Ultimate rimangono uguali. Quello che cambia il pacchetto performance abbiamo il 1440p che mi dicevano essere supportato anche nelle versioni ultra wide, quindi qualsiasi versione del quad HD, anche ultra wide quad HD, poi RTX on dovrebbe essere supporto semplicemente al ray tracing perché qui sottolineano DLSS 3, Nvidia Reflex e Cloud G-Sync direttamente soltanto nell'Ultimate e come sessioni avete 6 ore, che non vuol dire che potete giocare soltanto 6 ore al giorno, anche se comunque sono tante, dovreste valutare che 6 ore forse siano abbastanza, ma in caso di raggiungere le 6 ore consecutive vi basta slogare velocemente da GeForce Now e ricominciare, questo potete farlo anche all'interno delle ore stesse, sono 6 ore per sessione massime, ma questo non vuol dire che se chiudete e riavviate una sessione rimangano le stesse. L'altra limitazione che viene introdotta è che GeForce Now sarà ora limitato a un massimo di 100 ore a mese per account, questo vuol dire che fondamentalmente se superate le 100 ore non potrete più giocare con il vostro account GeForce Now. Nvidia segnala che dalle sue statistiche il 94% degli utenti dovrebbe essere in grado di appunto rimanere sotto questa soglia senza problemi, quindi ci sarà soltanto un 6% danneggiato di gamer diciamo molto molto sensibili. Io magari avrei diviso 100 ore per il tier performance centrale e 125-150 per l'altimate, visto che comunque costa anche un po' di più, anche se ovviamente offre di più, però di per sé queste sono scelte aziendali di Nvidia, quel 6% verrà danneggiato ad ogni modo, il resto sembra essere perfettamente a posto. Questi cambiamenti arriveranno dall'inizio del 2025. E con questo siamo arrivati alla fine di Morden News per questa settimana. Fatemi sapere tutte le vostre opinioni giù nei commenti, like, commenti e iscrizioni sono sempre super graditissimi, il configuratore lo trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video di Stati su Morden Tech. Salusa!